perché ero contrario contro il vaccino non la vedo una cosa che mi ispirava insomma fiducia insomma per il discorso che in così poco tempo hanno creato questo vaccino proprio dopo insomma questa esperienza purtroppo brutta e che comunque grazie a loro sono riuscita a superare sicuramente lo farò anche se non so comunque fiducioso però purtroppo penso che sia l'unica cosa in questo preciso momento che possa risolvere il problema quando verso un periodo noi siamo storicamente in un periodo di grande sviluppo tecnologico ma di riaffermazione di antiscientismo che è una cosa folle pericolosissima assolutamente pericolosa guardi appena finisco quasi dio vuole appena posso io mi faccio la dose di vaccino c'è appena mi hanno l'ok la prima cosa che faccio sanità pubblica la sanità funziona funziona